ciao a tutti benvenuti o bentornati nel mio canale oggi è la prima gita dopo la quarantena ho deciso di andare in un posto che conosco dove siamo già stati e quindi siamo ancora qui in Valmasino e oggi ho intenzione di esplorare la foresta dei Bani di Masino bellissima e vedere se trovo qualche composizione e una bella immagine iscriviti al nostro canale ho trovato una scena molto carina qua perché la foresta si apre leggermente quindi permette la luce di attraversare gli alberi e di raggiungere questa bellissima sorgente questo piccolissimo ruscello che utilizzerò come primo piano e poi volevo includere un po' della foresta che parzialmente è in ombra e crea un bel contrasto con le luci e le ombre adoro questa foresta è bellissima è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più è in ombra e crea un po' di più e crea un po' di più direi che per oggi è tutto alla fine sono riuscito a fare tre scatti devo ancora vederli su pc ma sembrano essere venute bene e niente se vi è piaciuto questo video lasciate un like considerate di iscrivervi e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao